ben tornati al liberi tv e ancora stiamo sulla scia degli autori del primo maggio santa seviera mi raccomando piazza roma ed è idealmente all'inizio della stagione estiva si aprono le seconde case dei romani non che andiamo ad aprirlo i romani che hanno la seconda casa a santa severa in quelle date sicuramente saranno tutti lì con noi in piazza roma dove c'è una mostra mercato molto bella artigianato e modernariato e vintage e poi c'è la cultura con sbs comunicazione nello stand e proprio in piazza roma nel centro della piazza ci siamo noi e tra i dieci autori c'è anche silvi reno silvi benvenuta ciao ciao grazie mille allora liberi tv vuole sapere del tuo libro la farfalla con gli artigli raccontaci allora possiamo partire dal fatto che questo questo titolo è già un'icona fondamentalmente perché la farfalla con gli artigli non è altro che la protagonista tara e tara è una donna che incarna esattamente come la stessa dea azteca da cui questo libro prende il nome it's papalotl questa potenza femminile che è racchiusa nella capacità proprio di vita e di morte della dea e dentro di sé tara racchiude tutto questo universo che cerca fondamentalmente di di governare il romanzo è un romanzo un po particolare perché fondamentalmente è narrato sulla falsa riga di una sceneggiatura cioè non vuole essere una sceneggiatura ma è raccontato come più o meno come se lo fosse vuole far sembrare che lo sia e questo perché la mia intenzione era quella proprio di regalare al lettore una una lettura diversa che fosse quasi per immagini e quindi ci si trova di fronte a queste pagine che vengono raccontate proprio così con per immagini attraverso una una narrazione che scorre in una suddivisione di di scene vere e proprie che l'altro non sono che i differenti capitoli all'interno dei quali in ogni capitolo c'è quasi una micro storia che potrebbe vivere in una maniera a sé stante beh un libro sicuramente particolare un modo di scriverlo per lo particolare ma secondo te c'è anche un lettore particolare o è destinato a tutti e quali fasce d'età sicuramente potrei rispondere che il lettore ideale è un lettore di romanz perché la trama principale è quella di un romanz ma di fatto all'interno contiene molto molto altro altro che potrebbe anche non piacere a un lettore romanz abituato a un classico quindi ti potrei rispondere che sicuramente per la tipologia di argomenti e temi trattati e per come a volte questi vengono anche descritti in maniera cruda in maniera vera in maniera dura sicuramente questo romanzo è più dedicato a un pubblico adulto anche se non è ovviamente un vietato ai minori. Tara è una donna bellissima che però è molto forte e anche l'ascendente che ha sugli uomini sulle altre persone è fortissimo ma anche delle paure e delle debolezze parlaci di Tara e della sua moto. Tara è appunto come dicevo all'inizio è la farfalla con le ali è questa pantera eh che morde l'asfalto leggera e al tempo stesso eh è una donna piena di tutte le sue fragilità eh fragilità che esprime sia nelle relazioni che nella nella vita privata eh lei è una una vittima fondamentalmente del di quello che poi è il la sottotrama principale del romanzo stesso che è l'indifferenza sociale perché tutti i personaggi e tutti i temi trattati eh sono accumulati da da questo fattore e Tara è l'unica che in qualche modo cerca di sottrarsi a a questo a questa macchina eh infernale ma ne resta completamente stritolata perché poi lo fa a suo modo e il suo modo purtroppo è la bulimia e questo la porta inevitabilmente a una forma appunto autolesionistica quasi di suicidio in cui eh lei eh si ritrova e lei ne è consapevole perché nelle sue parole a un certo punto lei dice proprio l'unico modo per non provare dolore è non provare più niente, suffocare l'anima e quindi è proprio in questa ribellione che lei è verso la fine del romanzo eh si ritrova a parlare con se stessa perché poi alla fine tutto il romanzo è una narrazione a doppia voce dove c'è Tara contro Tara è lei che è amica e nemica di se stessa e quindi in questi ultimi capitoli in quell'ultimo capitolo lei eh si interroga proprio eh come in un paradosso mi ricorda quasi il paradosso di Schrödinger che è un paradosso in realtà di fisica quantistica che spiega proprio la consistenza dell'essere umano non dipende tanto dal proprio stato quanto dal fatto che ci sia qualcuno che ci guarda e che ci dice se siamo vivi o siamo morti e lei alla stessa maniera si interroga in un gioco di parole che riguarda il suo nome e si chiede come si determina il peso a vuoto di un essere umano e che cosa bisogna togliere di di superficie no di 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 tutto quello che è in più per raggiungere effettivamente il suo valore e soprattutto se gli altri ci ignorano noi esistiamo? Beh una bella riflessione una bella provocazione eh quando è uscito il tuo romanzo? Il mio romanzo è uscito a giugno del 2021 quindi lockdown pandemia un mondo che si ferma ma a Santa Severa tu arrivi per la prima presentazione quindi alle 15 sì purtroppo sì è la prima dopo un anno sì dopo quasi un anno perché il lockdown non ha aiutato e ovviamente fare presentazioni è stato difficile farle diciamo eh online per il mio primo libro preferivo comunque sia riuscire a fare qualcosa di vero di fisico anche perché poi appunto questo libro parla della distanza tra le persone ehm farla a distanza o solo a distanza non non mi piaceva e quindi ho preferito aspettare. Allora con SBS comunicazione fai la doppietta perché noi presenteremo sia online sia dal vivo questo bel romanzo ricordo l'appuntamento per gli amici di Libere TV e per tutti quelli che vorranno raggiungerci alle 12.45 di domenica primo maggio saremo in piazza Roma a Santa Severa e vi aspettiamo. Grazie a Libere TV e grazie a Sì. Grazie a te e grazie a voi. Grazie a tutti.